Quindi attenzione, adesso dovete pian piano reagire a quello che dico. Se io vi colpisco con il braccio a sinistro dovete spostarvi un po' a sinistra. Se io vi colpisco con il braccio a destra dovete spostarsi un po' a destra. Se io faccio un movimento laterale, quello che dovete fare è spostare testa indietro, mettendo in funzione i nostri addominali. Sinistra, addominali laterali a destra, addestra, addominali laterali a sinistra. E se io mi sposto indietro, lavoro un addominali davanti. Proviamo dieci volte, quindi occupiamo la guardia, gamba destra va indietro e cominciamo. Uno, due, indietro, va bene? Uno, due, indietro. Uno, due, tre. Uno, due, quattro. Uno, due, cinque. Uno, due, sei. Uno, due, sette. Uno, due, otto. Uno, due, nove. Attenzione ai miei braccia, dobbiamo reagire bene. E ancora uno, due, dieci. Uno, due, undici. Va bene, cambiamo direzione. Grazie.